Musica Autorità di Municipio Dili, Bando Venedor Taibesi, attualo il negozio e ha fatto il sostenimento. Autorità di Municipio Dili, Bando Venedor Taibesi, attualo il negozio e ha fatto il negozio e ha fatto il sostenimento. Bando Venedor Taibesi, attualo il negozio e ha fatto il sostenimento. grazie a tutti ma caldo palazzo san ma caldo un punto dei incontro titic di mane ben da oramco un praodossia ma ho la come fa ma caldo las umano per i dati è la ma calda fa tina tu ita haki hake animale animale è fang animal inia fa tina fangina fa tina fangina in tigre organizzano in condizion ora si hai mesi negri che si organiza la fatta per dire che le condizioni ci sono ancora.